Da gennaio inghiotte bottiglie di plastica dell'acqua e contenitori per alimenti e premi a chi ne mette di più. Si tratta dell'ecocompattatore voluto dall'amministrazione arrivato a seguito di un bando che ha un duplice obiettivo. Ridurre il quantitativo di bottiglie di plastica sul territorio e anche ridurre eventualmente i volumi perché questa macchina riduce del 90% il volume di ogni bottiglia e diminuire anche l'inquinamento. Perché diminuire l'inquinamento? Perché riducendo i volumi ci sono meno trasporti per portare la plastica nei centri di raccolta per cui se si riduce del 90% il 90% dei trasporti verranno ridotti. Le bottiglie verranno poi immagazzinate in bidoni e sacchi che saranno consegnate a un centro specializzato. Questa plastica ha un valore più pregiato perché queste bottiglie diventeranno solo e esclusivamente bottiglie di plastica. Funziona che l'utente viene riconosciuto tramite un barcode che si può scaricare da un'app che è rimessa a disposizione oppure dalla tessera sanitaria. Dopo che l'utente viene riconosciuto si apre lo sportello e vengono introdotte una bottiglia alla volta o più bottiglie se eventualmente sono di piccole dimensioni. La macchina legge il barcode e memorizza quante bottiglie l'utente ha consegnato e quante bottiglie in totale sono state inserite dall'inizio dell'installazione. La struttura è stata posizionata davanti alle scuole elementari per fare in modo che anche i più piccoli imparino a differenziare i rifiuti. È anche previsto un contributo per la scuola o l'associazione che porterà più bottiglie.